Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, la leggenda di Julian e il canto dei Ai Ai dell'episodio L'isola è in pericolo. Episodio numero 16. Buon ascolto. Il giorno dopo, il re Lemurian si alzò di buon umore. Esso sapeva bene che essere diventato re non era facile, perciò iniziava a sentirsi un po' a disagio in questo momento. Improvvisamente qualcuno bussò alla porta del re Lemurian. Era Eugene, il saggio, che voleva avvisare Lemurian di una grande minaccia. Lemurian, re del Madagascar, sono venuto per comunicarti che Orazio, un lemore molto malvagio, vuole impadronirsi della tua corona, per rendere l'intero popolo in schiavitù. Devi fermarlo assolutamente, prima che pianifichi qualcosa di malvagio, per ottenere la tua corona. Stai molto attento, Lemurian. Lui è molto furbo, disse Eugene. Lemurian, ascoltando Eugene, partì col suo esercito per fermare Orazio. Purtroppo, quando fu davanti al nemico, vide Julian in gabbia. Orazio sapeva bene che Lemurian considerava Julian un caro amico. Perciò non esitò a tenerlo in ostaggio, allo scopo di diventare lui stesso re. Il re Lemurian, infastidito, disse a Orazio. Rilascia subito Julian, la tua sete di potere ti rovinerà. Non essere egoista e lascia immediatamente il Madagascar. Orazio non ascoltò per niente Lemurian e, ostinato ad ottenere la corona, disse Ascolta bene, ragazzo. Io lascerò il tuo amico, solamente se mi offrirai la tua corona. Altrimenti, sappilo bene, non lo rivedrai. Mai più. Lemurian in quel momento si sentì molto spaventato. Non sapeva cosa scegliere. Immaginava, infatti, che per essere re bisognava superare ogni ostacolo. Quindi, pensandoci bene, rispose Ti darò la mia corona, in cambio di Julian. Ma dovrai promettermi che sarai un re onesto e leale. Giuralo. Orazio, sghignassando, rispose È quasi impossibile credere che un re tenga di più all'amicizia invece della sua corona. Va bene. Se è questo che desideri, ti accontenterò. Julian fu liberato. Ma Orazio, infrangendo la promessa, iniziò a devastare il Madagascar, catturando tutti i lemuri. Lemurian, arrabbiato, a causa del comportamento sleale di Orazio, gli disse Ehi, cosa stai facendo? Hai dimenticato la nostra promessa? Orazio rispose Provero, Lemurian. Dovevi stare più attento. Ogni re non rinuncerebbe mai alla corona per l'amicizia. Ricordatelo bene. È stata tua la decisione di offrirmi il potere. Sai, lo userò per distruggere il tuo patetico regno. Lemurian, colmo di rabbia, si dirisse insieme a Julian da Eugini il saggio per farsi donare un'arma che distruggesse Orazio per sempre. Questo Orazio è Lemurian. E Julian in gabbia. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!